Il Ministero della Salute ha dichiarato il richiamo di un lotto di broccoli a rosette surgelati marchiati come cuor di gelo contenenti 400 grammi a causa di sospette tracce di alcaloidi del tropano. Il richiamo coinvolge specificatamente l'otto con il numero 231928 e data di scadenza fissata al 30.04.2025 provenienti dallo stabilimento cuor di gelo SRL IT2325CE situato nella zona industriale Asi di Gricignano d'Averse in provincia di Caserta. I consumatori sono invitati a non utilizzare il prodotto con il suddetto numero di lotto se è già stato acquistato e si trova in casa per evitare potenziali rischi per la salute.